Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità alla guida e di mantenere la distanza di sicurezza. Premabilità in A1, code in uscita da Rezzo nelle due direzioni per traffico intenso. Sulle Firenze Mare restano code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra BVA11, Firenze Nord e Firenze Peretola e code a tratti tra Monte Catini Terme e Firenze Ovest. Infipili per lavori scende a 1 km la coda tra Monteluco e Ginestra verso Firenze e in carri d'autoposta restano 2 km di coda, ancora una volta per cantieri tra La Strassigna e Ginestra. Ricordiamo che si tratta di interventi per il miglioramento della sicurezza con restringimenti percorsi alternativi sulla SP12 per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al crono programma. A Firenze traffico molto sostenuto sulle principali direttrici in ingresso città. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!